Ciao a tutti gli amici di 4Windsurf, sono Fabio Canella, siamo qua allo Stand Point 7 a Diano Marina e vediamo un attimo velocemente la differenza tra la Solt 2015 normale e la Solt 2015 Campello Edition. Allora, la differenza principale la vediamo subito, questa ha la finestra tramata in X-ply, mentre la Solt Campello Edition ha la finestra in monofilm normale per essere più leggera e più reattiva. Poi un'altra differenza è questa al singolo occhiello di bugna, perché sono le specifiche indicate da Campello, mentre qua abbiamo il doppio occhiello per una regolazione più ampia. Inoltre vediamo la tasca delle stecche della Solt normale, è in Dacron normale, mentre la Campello Edition ha le tasche in X-ply. Inoltre abbiamo l'ultima differenza principale, è che la Campello non ha il vario top, quindi si può armare soltanto con l'albero ideale, mentre la Solt normale ha il vario top, quindi si può mettere anche una misura di albero compatibile. Questo è tutto, ci vediamo in spiaggia se siete qua. Ciao! Eccoci qua invece con la nuova 0.7 Spy, novità assoluta 2015, è la vela Power Wave, 5 stecche, per chi vuole arrivare sull'onda con la massima potenza, sostanzialmente sostituisce la Sado che esce quest'anno dagli stili. E basta, ci vediamo in acqua direi. Ciao!